Buonasera a tutti, ben ritrovati, grazie per essere qui. A chi ci segue ovviamente su Zoom in diretta, anche a quanti ci stanno seguendo su Facebook e a chi seguirà ovviamente questa registrazione, dato che diamo sempre la possibilità di seguire in qualsiasi nostro corso e qualsiasi nostro webinar anche la registrazione degli incontri, perché vogliamo che non perdiate assolutamente nessuna parte di queste nostre proposte formative. Oggi è un primo incontro gratuito di un corso, un corso che è da un po' di anni che vive con Scuola Oltre, chi ci conosce lo sa, perché qui con noi oggi abbiamo Davide Secca, vicepresidente di Scuola Oltre, e quindi che ci propone e ripropone questo suo particolare corso dedicato alla Body Percussion e quest'oggi i dintorni. Non solo scoprirete con lui cos'è RCVE, ovvero ritmo, corpo, voce, emozioni. Lascio a lui la parola e auguro a tutti ovviamente un buon corso. Grazie. Francesca, io comincio subito a fare una domanda a te. Siccome tu sei meravigliosa, brava, bravissima, sei ormai il volto, professionale di Scuola Oltre, ti chiedo se sarebbe possibile per te impostare al volo un questionario per capire quanti docenti infanzia e primaria abbiamo? Lo posso fare? Lo vedo al volo, in base ai tempi, io intanto vado avanti, ok? Al volo non lo so, però lo posso fare. Calma, se è un problema invece, scusami, non te l'ho chiesto prima, questo perché, allora intanto buongiorno, no, buonasera, scusate, è stamattina che sono chiuso dentro l'ufficio, perché andremo a parlare di Body Percussion, e andremo a parlare quindi di utilizzare il corpo come strumento musicale, ma non solo. È impossibile non avere, dal mio punto di vista ovviamente, una visione olistica del corpo, quindi usare un corpo dal punto di vista musicale vuol dire anche parlare delle emozioni, di quel corpo che suona o che viene suonato, vuol dire anche muovere il corpo e quindi di conseguenza magari anche trovare ulteriori difficoltà, vuol dire trovare dei limiti e quindi c'è una visione molto ampia e capite quindi che si può inserire in maniera polierica e trasversare tra le discipline e nell'arco di crescita dei bambini. Ovviamente avendo un corpo che si muove, parlando di coordinazione, cambia se abbiamo dei bambini di tre anni, di quattro, di cinque, di dieci, di quindici, eccetera. Ecco perché ho chiesto a Francesca di sapere indicativamente quante docenti dell'infanzia, primaria o secondaria ci sono per cercare di usare un linguaggio che possa essere utile a tutti. Come primo incontro di presentazione di un corso poi che si svilupperà in altre due date, con due ore di lezione ciascuna, andremo a parlare nella parte teorica, cominceremo a fare qualche piccolo esercizio e lo ridico perché magari qualcuno sta entrando solo adesso. Per chi poi si iscriverà al corso ci saranno fra i materiali tutta una serie di video che rimarranno vostri, che quindi al di là del corso poi voi potrete utilizzare per riprodurre delle ritmiche, per riprodurre delle coreografie, per riprodurre dei movimenti, che poi io esorto sempre a cambiare. Cioè nel senso quello prendetelo come un incipit e poi andate liberi con la vostra creatività o con le vostre competenze, non so se ci sia per caso presente già qualcuno che di Badi per Cascio se ne intende o qualche musicista. Allora, intanto cominciamo a parlare, insomma a dire, dirò per qualcuno anche delle ovvietà, ma essendo una prima volta, insomma preferisco essere molto chiaro fin dall'inizio. Condivido delle slide. Ok, ditemi se le vedete, Francesca, si vede tutto? Sì, si vede, grazie. Ok, grazie a te. Allora, Badi Percussion ed intorni, perché comunque vi ho già accennato nel breve abstract perché ho fatto che la Badi Percussion, adesso vedremo, è qualcosa, è un sistema tecnico e ritmico di poter utilizzare il corpo, ma dal mio punto di vista, lavorando con il corpo nulla mi vieta, anzi la creatività mi porta a farlo muovere, mi porta a connetterlo con altre discipline che può essere l'inglese per un discorso di accenti o di italiano per un discorso di accenti, che può essere nell'attività motoria per la coordinazione, che può essere arte immagine perché possiamo trasformare la Badi Percussion in macchie, oggi vedremo un piccolo esempio, che può essere gli albi illustrati che io tanto adoro perché possiamo trasformare le parole in Badi Percussion. Ecco che l'idea del corso che io vorrò sviluppare è in questa direzione, quindi non un corso strettamente tecnico di alta specializzazione sulla Badi Percussion, anche perché online è veramente difficile e perché non è questa la sede, perché probabilmente avendo anche insegnanti trasversali cercheremo di essere ampi, ma di dare anche tanti, spero di riuscire dalle punti interessanti che poi man mano potreste anche sviluppare. Allora, andiamo semplicemente un po' a declinare la cosa vuol dire parlare di Badi Percussion e cos'è questo acronimo che a un certo punto, semplicemente prendendo gli iniziali di alcune parole a me care, ho creato e ho ottenuto vicino al mio nome. Allora, la Badi Percussion intanto è qualcosa di molto naturale che esiste da quando esiste l'uomo, come sappiamo benissimo che la musica e il ritmo sono state il primo sistema di comunicazione tuttora in alcuni posti del mondo, la musica e soprattutto l'aspetto ritmico sono la colonna sonora di eventi, di situazioni, di cure, di magie, di situazioni religiose, prima di un attacco, se voi pensate in antichità anche prima degli attacchi di guerrieri comunque si caricavano e si caricano con la musica e con il ritmo. Ecco che il ritmo diventa un ambiente in una scuola, un ambiente di apprendimento perché la musica e il ritmo hanno quella capacità di rendere favorevole l'ambiente di apprendimento. Molto spesso mi trovo ancora a dire, a cercare di convincere i colleghi che la musica non è rumore, che la musica non è perdita di tempo, che anche durante una verifica io posso fermarmi e lavorare con il corpo perché mi diventa attività di concentrazione, attività di condivisione, attività di buttare fuori l'ansia e sentire che faccio parte di un gruppo e di un'identità. Quindi io tengo molto a tutte quelle skills, a tutte quelle situazioni che vanno anche al di là degli obiettivi musicali. In italiano si traduce percussione corporea, ma veramente mi sembra molto brutto, io l'ho messo, ma è meglio parlare di body per cascio perché percussione corporea mi riporta a situazioni poco piacevoli. E' l'uso del corpo come strumento musicale in uno schema ritmico, perché comunque il ritmo ha bisogno di uno schema per darci anche una sensazione di benessere. Quando noi suoniamo in una maniera aritmica o con un ritmo confuso o che non ha una certa regolarità, lo stato d'ansia può aumentare. Ecco che ho bisogno di regolarizzare il battito del mio corpo, come nella mia vita quotidiana ho bisogno di regolarizzare il battito e il respiro del mio corpo. C'è una stretta connessione fra la natura, la bellezza di come siamo stati creati e la bellezza dello suonare. Cosa vado ad utilizzare nella body per cascio? Ovviamente il corpo, le mani che possono battere fra di loro e poi diventeranno lo strumento per battere il corpo. Il corpo lo suddividiamo, vi chiedo scusa, per comodità inizialmente in quattro parti, partendo dall'alto, petto, pancia, cosce e piedi. Questo non è una regola definitiva, è un procedimento, un approccio didattico che tiene conto dello sviluppo, dell'attenzione dei bambini. Quindi di non suonare a caso tutto il corpo, di non utilizzare la testa per farsi male, ma di partire da uno schema dall'alto verso il basso. Tendenzialmente sappiamo benissimo che, soprattutto per i bambini più piccoli, non è paritetica la difficoltà da alto-basso, basso-alto. Il basso-alto è più difficile per loro, per cui teniamo conto dell'età con cui stiamo lavorando, stiamo collaborando, stiamo giocando, ci stiamo divertendo, ma tendenzialmente partiamo nella gestione del nostro corpo dall'alto al basso, conseguenze del petto, destra e sinistra, adesso cerco di far visione, scusate, il petto che per i bambini più piccoli può essere fatto indistintamente nella parte destra, nella parte sinistra o al centro. Man mano che andiamo verso lo sviluppo del corpo e parliamo magari di bambine, di ragazze, di donne, andremo, ma anche noi per comunità maschile, andremo a suonare al centro, perché al centro andremo a suonare proprio lo sterno che crea insieme a tutta la cassa toracica una cassa di risonanza. È come negli strumenti musicali, i modelli, nelle percussioni, la batteria, la cassa, quella grande grande che è per terra. Quindi se voi battete già, voi purtroppo non lo sentite, suona in una maniera a colpire, a far aderire tutta la mano, dita e palmo sul nostro corpo. Non vado, ok, ad utilizzare solo le dita e non vado ad utilizzare solo il palmo, perché se io uso la mano in questa maniera diventa molto tesa e molto dura. Male. La mano comincia sempre un atteggiamento morbido. Anche questo sembra una sciacchezza, ma diventa, scusate, tolgo un attimo la condivisione finché mi vedete, anche questo, quindi diventa un modo di conoscersi, diventa un modo di esplorarsi, diventa un modo di emozionarsi o troverete qualcuno che sarà quasi infastidito dal conoscersi in questa maniera. Sarà quel che più piccolo inizialmente potrebbe addirittura anche aver paura. E da qua viene fuori anche la bellezza di questa attività, perché vi dà una chiave di lettura della personalità del bambino diversa. Attraverso il corpo scopriremo ciò che la voce e la mente non dicono, non vogliono dire. Quindi l'osservazione, noi insegnanti, noi esperti, noi che lavoriamo con i bambini abbiamo questo grande privilegio di osservarli. Quindi abituatevi un po' alla volta a lavorare col vostro corpo, non guardandolo, comunque il vostro volto, sempre guardare. La nostra vita, parlo di me, la mia vita sono i bambini, io sono lì per loro, quindi devo trovare ovviamente certezza davanti a uno specchio, magari bastano tre minuti al giorno, non preoccupatevi, inizialmente farete cose semplici insieme a loro. Poi voi affidatevi a loro che loro vi portano, è molto bello. Vi dico questo perché spesso quando faccio formazione anche in presenza, gli adulti un po' si vergognano, siamo un po' gocchi a parlare di petto, a parlare di pancia, e la pancia è cicciotta, le cosce. Il bello di lavorare col corpo, di lavorare poi come vi dirò con l'RCV, è di essere quello che siamo. Il nostro corpo, il corpo di Davide, suona unicamente perché è il corpo di Davide. Bello o brutto che sia, ma è la mia identità, il mio suono diventa identitario. Quindi vedete quanto anche c'è un aspetto psicologico ed emotivo attorno a queste attività. Quindi io adesso sono seduto e anche questo è una considerazione da fare. Posso lavorare in piedi? Io tendenzialmente lavoro sempre in piedi, lavoro in spazi abbastanza ampi dove cerco di non avere banchi, cerco di non avere sedie, cerco di non avere quaderni, cerco di non avere penne, cerco di non avere lavagne. Io tendenzialmente faccio lavorare, lavoro con la mente, quindi è un grande lavoro di attivazione, di memorizzazione con la creatività e con la parte poi emotiva. Se non abbiamo questa disponibilità, perché dovremmo andare in palestra, perché dovremmo farlo all'aperto, ma all'aperto non si sente, perché piove, siamo in classe, nulla vieta di farlo nella disposizione in cui siamo o farli da seduti. E questo mi consente anche di dire che il lavoro da seduti può essere utile in quei casi dove siamo con persone, con bambini che non possono in ogni caso alzarsi. Bambini in sedia a rotella o in sedia a rotelle, scusate, o altri sistemi che impongono una posizione diversa. Ecco che noi possiamo fare la body per cascio, usare le cosce e i piedi anche da seduti. Basta sedersi invece di appoggiarsi un po' strabaccati un po' più in punta dei piedi, un po' più in punta della sedia in modo che i piedi appoggino bene. E lavoro da seduto, schiena dritta ed ecco che non mi cambia niente. Da seduto in questa maniera a in piedi non cambia molto. Quindi tranquillamente potete fare anche un'attività di 5 minuti, di 10 minuti in classe o dove volete. Apro una piccola parentesi. Se non abbiamo esperienza sufficiente, sarà difficile fare un'attività didattica di un'ora, di 40 minuti, di 45. Ok? Questo è capibile. Bene. Io nasco come musicista con tutto un percorso di un certo tipo, per me è facile improvvisare. Mi metto nei panni di chi la prima volta, ecco perché io vi darò dei tutorial video perché questi vi accompagneranno. Ma per dirvi cosa? Che la cosa importante non è l'ora che posso fare io una volta a settimana. Voi avete questa grande fortuna, poter fare 5 minuti ogni giorno. Il saluto, il momento della ricreazione, cioè diventa un'attività didattica. Poi vedremo anche che c'è un concetto pedagogico, che c'è anche un approccio molto più ampio. Però se noi abituiamo il nostro corpo a fare una serie di movimenti regolari che prevedono l'ascolto, che prevedono l'attenzione, vedremo, e ci sono anche delle evidenze scientifiche, che quei bambini che amare solitamente fanno un po' più fatica a concentrarsi, che scrivono male, che sono distratti, che hanno delle difficoltà varie, possono, non è detto che succeda, ma la mia esperienza sui tanti anni mi ha fatto vedere dei meravigliosi risultati. Ci vuole solo un po' di costanza. Diventa un gioco, poi saranno loro a chiederlo. Quindi non preoccupatevi di fare cose megagalattiche, poche, ma fatte bene, e con costanza. Perché in maniera costante noi abituiamo sì il corpo, sì le emozioni, ma soprattutto a livello di neuronale, il nostro cervello crea nuove sinapsi, crea nuove abitudini e noi sappiamo quanto difficile è cambiarle e crearne di nuove. Quindi dal mio punto di vista è dare una nuova opportunità, soprattutto a quelle persone che nel modo tradizionale anche di apprendere possono essere un po' più difficoltà, e io sono stato uno di quelli, alzo la mano, e che in altri canali hanno trovato in qualche maniera l'inclusione per se stessi. Quando io mi sento incluso per come sono, poi sarò una persona che include. Questo non bisogna insegnarlo a parole, facciamolo. Facciamo un sorriso davanti a un errore di una persona, di un bambino, che poi diventa l'errore di tutti. Un errore, io dico di un bambino, è una nuova versione di quello che io dovevo fare. Non lo favo quello al mio. Bene, ha un'altra versione. Facciamo quella e poi facciamo anche la mia. C'è sempre un modo diverso di approcciarsi. Io, scusate, ma ci tengo veramente tanto. Per me questo è diventato il fuoco, che è bello il fuoco che tiene vivo, di quello che io faccio. Infatti, non a caso, la mia vita mi ha portato a mettere la musica in un ambito di disabilità, in un ambito di multisensorialità. Il mio mondo è diventato quello degli approcci multisensoriali, dell'ambito della disabilità, dove la musica, il corpo e l'attenzione all'altro si porta ad una condivisione, a diventare una comunità. E vi invito, 30 gennaio, a un altro corso che si chiama gentile teaching. Detto questo, vado avanti. Provate semplicemente a battere in maniera regolare. In maniera regolare vuol dire, si chiama pulsazione, è come avere un quaderno a quadretti. Al centro di ogni quadretto mettiamo un punto e sarà a regolare la scansione. Questa si chiama pulsazione, è equidistante ed isocrona, quindi sempre allo stesso tempo e sempre alla stessa distanza. Questo, a livello di gruppo classe, vedrete, creerà una unione o un aiuto incredibile. Se noi ci raffiguriamo sempre quel quadratino vicino, una volta metto il puntino in mezzo, una volta lo metto un po' più spostato a destra, quindi lo posticipo, oppure lo metto un po' prima. Ecco che invece di avere un ta, 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 che è a regolarità, e noi abbiamo bisogno di regolarità, perché diventa una nostra certezza, comincia ad avere ta, 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 ta. Se noi pensiamo al nostro cuore quando batte così, lo definiamo, in ambito medico, come un cuore aritmico. E non so se avete mai provato questa sensazione, è una grande sensazione di disagio. Ecco che la connessione con la natura e la musica è meravigliosa. Di questa regolarità noi abbiamo bisogno. Eh, ma i bambini a giorno d'oggi non stanno più concentrati. Eh, il covid. Eh, certo, abbiamo tutti ragione, ma cominciamo a dirlo un po' meno e cominciamo a farlo quei cinque minuti ogni giorno. Io sarò visionario, ma io ci credo ancora a 51 anni, perché insomma è bello. Quindi provate, se avete voglia, a fare questa cosa. Ha due colpi sul petto e un colpo sulle mani. Quindi faremo ta, ta, ta e lo facciamo per quattro volte. Perché lo faccio per quattro volte? Intanto perché la maggior parte della musica moderna che i bambini ascoltano, che noi ascoltiamo, è basata su quattro tempi. Quindi è qualcosa che noi abbiamo. È qualcosa di ancestrale, perché c'è tutto uno studio sui ritmi ancestrali e che quindi ci dà una certa sicurezza. Quindi ta, 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 ta. Quindi farò petto, petto, mani. Petto, petto, mani. Petto, petto, mani. Petto, petto, mani. Perché ve lo mostro con le dita? Io vi sto trattando un po' come faccio con i bambini, perché poi voi avete a fare con i bambini. Perché hanno bisogno di fissare? Perché se io vi faccio sentire ta, 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 vi siete già persi? A meno che non siate un orecchio e un cervello educato all'ascolto e alla memorizzazione ritmica, perché di memorie ne abbiamo tante. Lo sapete meglio di me, non devo insegnarmi nulla. Esiste la memoria ritmica, la capacità di sentire invece che di cinque volte in una volta il ritmo e riprodurlo. Glielo faccio vedere, ma non solo. Questo mi dà la possibilità, in un secondo momento, dove andrò a variare, di aver già creato una struttura. Posso parlare di poesia, ho creato quattro versi, posso parlare di metrica. Sembra assurdo, ma in realtà anche un bambino molto piccolo, oppure con i bambini piccoli, sapete come faccio quando devo far memorizzare? Uso il nome dei bambini. Questo è Antonio, questa è Maria, questa è Stefania e questa è Francesca. Ognuno di loro fa questo, quel loro ritmo, i bambini che guardano identificano il ritmo con quel nome e io vado a chiamare i nomi ed ecco che ho fatto uno spartito musicale, fatto di nomi e di ritmi. La creatività portatevela in un sacchettino in tasca, sempre, che nei momenti di crisi vi salva la vita. Non importa che sia una cosa bella o brutta, intelligente o meno, in quel momento vi farà intanto stare un po' più sereni e divertirvi. Quattro sequenze, tutte sul petto. Io conto adesso, fino a vuoto, quattro tempi, conterò. Io non vi vedo, ma vi chiederei, ma tanto non vi vede e non vi sente nessuno. Provate a provare questa sensazione. Quindi conto fino a quattro, se non siete in giro per il mondo che non vi prendono per pazzi, provate a farlo. Attenzione, usare voce e corpo insieme. Non solo voce e non solo corpo. Scusate, il dito era sbagliato. Insomma, e non solo corpo. Il solo corpo sarà l'obiettivo. Lavorare solo con il corpo non è la cosa più immediata. Noi siamo esseri che nasciamo piangendo e muovendoci. La natura ancora una volta ci insegna che... Io ho visto dei palloncini, li avete visti anche voi? No, perché io sono stufo morto, ma... Secondo me ci sono delle magie, delle robe. Mi chiedo scusa, non so cosa sia successo, forse alzando le dita. No, se vi succede è una cosa bella. Piangiamo e ci muoviamo appena nati. E questo ci accompagnerà fino alla fine. Quando un anziano blocca il corpo o blocca la voce, c'è sofferenza. L'essere umano sta bene in un insieme, in un equilibrio. Ecco che anche l'educazione del stai fermo a tutti i costi. A volte per qualcuno su venti bambini non è detto che per tutti sia lo stesso momento. C'è bisogno. Io ad esempio sono una persona che gesticola, che si muove e se devo produrre un progetto, devo scrivere un libro, devo camminare o ho la fortuna, e adesso ce l'ho di avere dei collaboratori molto in gama che stanno vicino a me e prendono nota. Sennò io vado in crisi. Questo è stato uno dei miei problemi a scuola, perché sembravo quello che non voleva impegnarsi, che non voleva fare. In realtà il mio modo di essere, le mie difficoltà, le supero anche psicologicamente nel movimento. Eppure sono qui, ho scritto libri, scrivo albi per bambini, faccio le mie piccole cosine e mi sento realizzato. Se mi fossi bloccato a tutti, una volta c'erano le botte che dicevo dalla maestra, o i vinieri che ricevevo perché sembravo sbogliato o sconcentrato, non sarei qui. E ciò che più mi ha aiutato è stata la musica. La regolarità, ho studiato conservatorio, ho fatto per tanti anni pianista, ho suonato ordone, ho fatto composizione. Ecco perché insisto tanto nell'aiutare anche quei, io dico sembra anche un bambino su venti, che non ce la fa nel modo in cui tutti gli altri 19 ce la fanno, vale la pena. Sempre vale la pena. E questo non risolverà i problemi del mondo, ma magari un sorriso per cinque minuti glielo farà venire fuori e se lo ricorderà. Perché quella si chiama memoria emotiva positiva. E noi ci dobbiamo nutrire di questo. Sappiamo benissimo nella vita quanto difficile è e quanto facile è memorizzare e introiettare memorie negative. La musica e il corpo ci consente di andare oltre. Conto fino a quattro, petto, petto, mani per quattro volte. Chi vuole farlo lo fa con me, chi non vuole farlo presterò il mio suono, il mio corpo a chi mi guarda. One, two, three and four and ta 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 voi siete riusciti, non lo so perché non vi vedo e non ho possibilità di interagire con voi, a tener conto delle quattro volte che sono passate. Mettiamo conto di mi, perché facciamo una proiezione in classe, sono davanti a tutti i compagni, sono un po' distratto, c'è la compagna bellissima davanti a me che mi fa battere il cuore, perché la maestra, la maestra, mille motivi, mi perdo. Voi pensate di aiutare quindi un bambino piccolo, tre, quattro, cinque anni, invece di fargli fare le quattro parti sul petto che richiedono un conteggio, ecco che le quattro parti diventano petto, pancia, cosce e piedi. Ecco che il mio corpo, so che dirò una cosa a qualche maestra, diventerà un pallottoliere, che a livello mentale e psicologico riuscirò a tenerne conto. Quindi ecco che io vado a fare, faccio sempre fatica online, io scuso vi posso mostrare la pancia, poi sotto mi sembra brutto, io farò petto, ta, 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 pancia a fianco all'ombelico, e bambini io dico sempre, prendete un dito, anzi no, gli chiedo, ce l'avete all'ombelico? Allora vedi che i piccoli cominciano a tirarsi sulla maglietta, cominciano a guardarsi, dito dentro l'ombelico, una mano si apre a destra, una mano si apre a sinistra, questa è la posizione, qui io ho il mio ombelico, quindi non più giù, non più su, ok? Quella è la posizione della pancia che può anche sostenere lo sbattere il corpo, più giù ovviamente, per ovvi motivi si può fare male, ma anche l'imboccatura dello stomaco potrebbe essere fastidiosa, quindi andiamo in una zona di sicurezza, quindi io faccio petto, petto, mani, pancia, pancia, mani, mi alzo cosce, cosce, mani, e piedi, piedi, mani, dove non mi abbasso, non mi abbasso a suonare i piedi come fanno i bambini con le manine, ma sbatto i piedi per terra, ecco che mi diventa più facile contare, perché basta che io mi ricordo del petto, della pancia, delle cosce e dei piedi e ci siamo. Come faccio, come lo svolgo il laboratorio a livello metodologico? Io ovviamente sarò il leader, voi siete il leader all'inizio, e il leader non è quello che fa e poi osserva, il leader è quello che fa e poi rifà osservando, perché voi non avete bisogno di vedere chi ha imparato subito, avete bisogno di accompagnare, è una questione pratica la musica, perché io mi ricordo una delle prime domande, adesso siamo tutti laureati, anche i musicisti siamo tutti laureati, una volta c'era, e ancora adesso, il professore di musica in realtà è un maestro, perché la musica si passa ancora come maestranza, come un qualcosa di pratico dove tu ti eserciti, dove hai un tuo leader che è il tuo maestro, che ti passa tante nozioni, concetti, emozioni, ma poi sei tu che devi farlo e la maestranza è come un'arte artigiana, a me piace l'idea di essere chiamato maestro in questo modo una maestranza, ok? E per questo il corpo, per questo dico 5 minuti al giorno è meglio che un'ora alla settimana, perché la maestranza nei 5 minuti al giorno, ma non lo dice la maestranza, lo dicono, al giorno d'oggi si chiamano neuroscienze, ma non è, non c'è il tempo, però è molto interessante, tutti gli studi di neuroscienze in musica e i cervelli e gli emisferi come lavorano aiutano a fare questo. Quindi domani saluti, senza dire niente, cominciate a battervi, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, sorrisoni e andate avanti fino a quando almeno un bambino comincia, dopo ce ne saranno 2, 3, 4, 5 e tutti quanti. Abbiamo già rotto qualcosa e diamo regolarità. Schiena dritta, attenzione, quando andiamo a suonare le cosce, scusate vi faccio vedere questa cosa, non andiamo avanti con la schiena. La natura ci ha fatto, mi metto di traverso per non, sono ancora più grosso, schiena dritta, le mani arrivano sulle cosce nel punto giusto, che quindi non c'è bisogno di arrivare con le mani vicino alle ginocchia, ma schiena dritta, le mani dove arrivano, arrivano. Siamo fatti in una maniera proporzionata, a meno che ovviamente non ci siano dei problemi e questo lo evidenzerete voi. Ok? Allora, come vedete, io ho un pessimo rapporto con le slide, che io faccio sempre per ore e ore e ore, ma poi non ce la faccio. RCWE è una didattica trasversale, è tutto quello che vi ho detto. A un certo punto ho detto, è multidisciplinare che parte dalla musica, dal ritmo, dalla body percussion, dall'uso della voce e ha come obiettivi lo sviluppo della parte musicale, artistica ed emotiva della persona, bambino, ma anche di voi, di noi, con uno sguardo importante su come entrare in relazione con se stessi e con gli altri da un punto di vista inusuale ed efficace, ma efficace. Questa è una cosa meravigliosa, è la scoperta dell'acqua calda, non è mica chissà che cosa, nessuno umido, no, niente. È solo una questione, ecco, la mia di aver deciso che la body percussion a livello educativo non è performance, ma è educazione. È educazione con la musica alla vita. È leggermente spostato, che ovviamente può essere non condiviso, ovviamente vi parlo del mio punto di vista. Obiettivi musicali? Andremo a conoscere il ritmo, andremo a conoscere tecnicamente la body percussion. Si parla di respirazione, perché quando suoniamo il corpo e usiamo la voce si parlerà di descrizione, canti etnici popolari, perché io quasi mai uso canzoni italiane, perché io non ho bisogno di occupare spazio ed energie mentali per l'interpretazione del testo. Io ho bisogno di tenere il focus sul corpo. Ecco che quindi vado a usare parole con sillabe non-sense o canti africani, canti indiani, dove non mi interessa cosa dico, mi interessa il suono, il fonema e non il significato. E poi andremo a parlare di come progettare una piccola attività. Come vi ho già accennato, ci sono degli obiettivi non musicali. Per me, dando per scontato personalmente quelli musicali, molto interessanti quelli non musicali. Una lettura della personalità, ve l'ho detto, da come si muovono, da come si suonano le persone davanti a voi. Non dico che troverete, è una magia che è, voglio dire, la body percussion manzia, ma andrete a vedere cosa succede negli occhi delle persone quando si muovono. Ci sarà un'attivazione mentale di concentrazione, ve l'ho detto fino adesso. Sviluppo dell'empatia, perché è un lavoro che faremo in gruppo. Io lavoro in cerchio, parleremo la prossima volta con gli scritti dell'idea di fare il cerchio senza mani, di trovare lo spazio usando gli occhi. Andrò a rispettare il mio corpo. In questo periodo molto particolare, ma in realtà è un po' da sempre, possiamo parlare di rispetto degli altri in tanti modi. Mi piace pensare che nel momento in cui mi educo ad avere rispetto di un certo tipo del mio corpo, poi faremo delle attività di suonare il corpo degli altri, di chiedere, ho suonato troppo forte, ti ho fatto male, perché poi non è detto che il mio modo di suonare il mio corpo senza farmi male sia il modo giusto di suonare il tuo. Quindi lavoro anche su questo aspetto qua. Un lavoro di gruppo, per me esiste la base sempre del gruppo. L'accettazione dei propri limiti, ve l'ho detto, perché lavorando con il corpo accettiamo l'imperfezione del nostro corpo. Il mio primo algo illustrato si chiama Meravigliosa Imperfezione, il ballo di Dada Doom. Perché? Perché ci credo, ci credo io, voi direte bravo, grazie, ciao. Però insomma ve lo comunico. Allora, è l'uso dei sensi. Udito, vista, tatto, poi in realtà si parla anche della propriocezione, si parla del sistema vestibolare, perché nel momento in cui andiamo a muoverci ci sono anche altri sensi. Una struttura di un laboratorio con il corpo non è una legge, è solo come so che amate tendenzialmente ad avere degli schemi anche voi, però ecco, è uno schema che può essere invertito, bloccato, cancellato. Però io intanto di base lavoro sempre in cerchio. Come vi ho accennato, faccio già dei bambini di tre anni, proviamo a lavorare, a creare, e ci sono dei giochi che faccio per lavorare, a fare un cerchio senza mani. Perché il rispetto anche al corpo degli altri arriva dal non tirarlo, dal esortare l'aiuto attraverso il proprio comportamento o con la voce, ne parleremo se avremo modo di vederci. Fonetica, uso di sillabe no sense, quindi alla base io lavoro molto solo con la voce, poi voce e corpo e poi solo corpo. Ci sarà una parte di ritmo e voce e lascio, vedremo, un bella parte anche legata all'improvvisazione. L'improvvisazione presuppone però del coraggio che è difficile da avere. Presuppone il fatto di non venire giudicati. Quindi prima di fare una bella e propria improvvisazione, come docente, devo lavorare per creare un gruppo che mi consenta anche di lavorare con quelle persone un po' più chiuse che possano fare un lavoro in questo senso qui. Espressione del corpo. Quindi andremo a lavorare sia con la body percussion in maniera statica, quindi fermi sul posto in piedi o seduto, sia attraverso la musica con un corpo in movimento. La body percussion può essere fatta, il ritmo è fatto da suoni, ma è fatto anche di silenzi. E in quei silenzi io posso avere un corpo che fa un gesto non suono. Il colpo al petto lo definisco gesto suono, le mani che si muovono o che fanno le orecchie sono un gesto non suono e diventa un gesto espressivo, quasi più teatrale. Di nuovo cerchio, senza mani, saluto eccetera eccetera eccetera. Questo è un piccola idea di come io svolgo i miei laboratori, ovviamente ancora una volta non è una verità assoluta, ma me la comunico. Ci possono essere volte in cui mi fermo al secondo punto, in cui il terzo punto diventa il primo. Ok? Questa capacità o desiderio di improvvisazione che cerco di passare ai bimbi, alle persone davanti a me, è qualcosa di cui mi nutro anch'io, che mi fa personalizzare la lezione sul qui ed ora, in base a quello che il gruppo in quel momento mi chiede o mi fa rispondere. Se avete domande, dubbi, perplessità, non siete d'accordo, non fate altro che alzare la mano o scrivere in chat e Francesca vi darà modo di confrontarvi con me, ovviamente. qui andiamo appunto anche in una parte, è un approccio metodologico, ritorno. Metodologico non vuol dire che è un metodo registrato, che questo è quello migliore di tutti, ma vuol dire che se voglio avere dei risultati devo tener conto di alcune situazioni didattiche, pedagogiche, psicologiche e di farlo con metodo. È un dialogo fra mente e corpo, attraverso è fondamentale l'uso della voce. Quello che in questo momento io sto usando tantissimo perché è online, non posso fare altro. Nel momento in cui uso la voce, il corpo e il movimento, vado a stimolare da parte vostra l'ascolto, o se sarò noioso, il non ascolto, ma questo me lo direte dopo, vi prego non ditemelo. RCV è un metodo stimolante per lo sviluppo dell'attenzione, della memoria e della concentrazione. Ci saranno dei risultati veramente incredibili e molto belli per loro. Lo scopo non è solo quello musicale, ma è quello di stimolare le emozioni e l'amore. Le potenzialità, molto velocemente, ritorniamo, la socievolezza, la lateralizzazione, la percezione corporea, l'accettazione degli errori, alla base. Io dico sempre, bimbi, nel momento in cui noi oggi cominciamo a giocare con il nostro corpo, cominceremo a fare un sacco di errori e sarà bello. Ma non perché dobbiamo sbagliare apposta, perché dovremmo accettarli e allora i bambini dicono, sì, la mia mamma mi dice sempre che sbagliando si impara. E io dico, no, perché se io continuo a sbagliare, a sbattere la testa contro il muro, mi faccio solo male. Sbaglio e cerco di analizzare, capire, fare dei cambiamenti. Ecco che è utile avere un maestro che ti può dare dei consigli o fra di voi diventerete maestri. Lavorare in cerchio, dal mio punto di vista, è essere tutti i maestri. E il mio scopo è il prima possibile di diventare inutile. Nel momento in cui io sarò inutile e loro riusciranno a gestirsi, sarà un grande punto d'arrivo o di partito. Inclusione, capacità di collaborazione, l'autoregolazione. Quello che vi dicevo prima, io vado a lavorare sul mio gesto suono o non suono, ma non è detto che dopo lo stesso gesto suono. Intanto devo imparare a non farmi male. Inizialmente i bambini si fanno male, si danno delle gran botte, poi capiscono. E alla stessa maniera sarà nel lavoro. Adesso che non c'è più il problema del distanziamento, è bellissimo ritornare a lavorare con il corpo degli altri. Sentimenti di appartenenza, è quello che vi dicevo prima, questo è il potere della musica, suonare insieme. I suoni, l'ho detto all'inizio, creano contesti educativi e formativi. Sempre, quando io vado nelle scuole e sento, e io lo capisco, non lo dico per giudicare, però sento, ma quando c'è musica si crea confusione. Quando c'è musica si crea confusione. Forse se quando c'è musica proviamo ad ascoltarla, proviamo ad alimentare la nostra anima, 5 minuti poi possiamo fare meglio. Ecco che rendiamo l'ambiente educativo, lo miglioriamo. Come utilizziamo quella musica? Ok? Il suono prodotto dal corpo traduce la nostra realtà espressiva emotiva, il fatto di suonarsi. Quando io arrivo a fare dei laboratori molto lunghi, i bambini, do delle consegne dove il bambino sarà libero di creare i propri suoni, inventarsi i propri movimenti. Sarà meraviglioso perché avrà una possibilità espressiva, che non è quella verbale, perché quella c'è, quella la fanno con il maestro, i professori, ma è un'alternativa di espressione. Il corpo si muove e comunica, anche quando non si muove. Il non movimento è comunque una comunicazione, è comunque una decisione, quindi anche il bambino che decide di non muoversi ci comunica qualcosa. Adesso, prima vi ho parlato della pulsazione, ok? Pulsazione è una successione di suoni, andamento regolare. Qua vi ho fatto l'esempio del puntino non c'è il quadrato, oppure della goccia che cade regolarmente. Il ritmo, noi spesso sento usare in maniera impropria ritmo e pulsazione. La pulsazione è questa regolarità. Il ritmo, torno un attimo indietro, è una serie, sono una serie di suoni o silenzi, ve l'ho appena detto, all'interno di questa regolarità e possono essere anche più corti o più lunghi. Quindi, io posso fare... vedete che il mio dito suona sempre, le mie mani, voi forse non le sentite, suonano sempre la stessa maniera, ma vedete il gesto. Quindi vado a fare, vedete la coordinazione, vado a fare con il corpo, in questo caso, una regolarità di pulsazione, un gesto suono regolare, e con la voce vado a creare una serie di silenzi e di suoni che si incastrano perfettamente. Se io ovviamente ho una base irregolare di pulsazione, non potrò avere un ritmo regolare. Se su una base regolare non avrò un ritmo regolare, dovrò trovare didatticamente il modo di far rientrare, e qua ne parleremo durante il corso. Divido il corpo, lavoro, lavoreremo il corpo su lungo tre assi. Io adesso vi ho fatto vedere, abbiamo lavorato secondo l'asse longitudinale, destra e sinistra, petto, pancia, cosce e piedi. In realtà lavoreremo anche, si lavora con l'asse trasversale sopra e sotto e sagittale davanti e dietro. Vi comunico già che la parte dietro che noi possiamo suonare, ve lo dico, preparatevi, sono le chiappe. E' l'unica parte del corpo che voi potete suonare dai piedi in maniera molto naturale. Le braccia, avete visto, che davanti arrivano sulle cosce davanti, alla stessa maniera andranno sui fianchi, alla stessa maniera andranno sul culetto. I bambini si fanno una gran risata ed è finita lì. Ogni parte del corpo ha un suono diverso, perché come gli strumenti, a seconda del materiale, il corpo mi suona in maniera diversa. Nel corso andremo ad ascoltarci, ok? Andiamo ad ascoltare il nostro petto, la nostra pancia, le nostre cosce, il nostro sedere, i nostri piedi, le nostre mani e la nostra voce. Quindi è una scoperta. Qui vi ho detto prima anche che potevamo trasformare in un gesto grafico. sopra ho due sillabe segnate, il da, un suono chiaro, il dum, un suono scuro. Sulla sinistra ho trovato dei pittogrammi, dei disegni che identificano le mani, il petto, mi è piaciuto questa immagina con il cuore. Mani, pancia. Questa si fa un po' più fatica per avere una pancia. Mani, cosce. L'ho fatto da seduto, perché la mia idea è che ci possa essere un bambino che in piedi non ci può stare. Quindi io, insomma, sono particolarmente sensibile a queste situazioni. Mani e piedi. Ci possono essere anche persone che le mani non ce l'hanno, certo, ma in qualche maniera si trova modo di suonare. Io ho lavorato con bambini con la spina bifida, in segnale, lavoro, ho lavorato con bambini ciechi, con bambini ipovedenti, quindi tutto questo non potevano vederlo, ma io lo raccontavo e ascoltavano. Ho lavorato con bambini con paralisi cerebrale dove il corpo loro era usato come strumento e diventavano il centro dell'amore dei compagni e quel tocco di quel corpo trasportava emozione ed era molto bello perché comunque si vedevano delle relazioni, ovviamente questo concordato con tutti i partiti. A livello musicale, io qua ho due, all'interno di questo rettangolo che io posso definire l'unità di misura, lo divido esattevolmente, come diceva il brucalifo, a metà. Quindi ho da da, non è da da o da da, esattamente a metà, 0,5 e 0,5. Quindi qua ho una colonna con le mani, quindi le mie mani faranno sempre e solo per quattro volte da da, poi c'è una pausa, qua non ho inserito segni musicali, c'è un vuoto, da da vuoto, da da vuoto, da da. Dall'altra parte, dove, e l'ho messo sul doom, dove c'è il vuoto in realtà ho fatto corrispondere un suono. Il doom sarà il suono del petto, questo doom sarà il suono della pancia, qua come il da da vado a dividere a 0,5 questo spazio, e farò doom doom, quindi qua avrò da da dum dum, da da dum sui piedi. Quindi posso, sono in palestra, ho dei coni colorati, ecco che mi faccio già una lettura, posso già parlare di lettura di scrittura musicale, ovviamente molto, vedete che qui io non sto usando terminologia musicale, proprio perché è trasversale. È ovvio che se davanti a me avessi solo dei musicisti o solo dei professori di musica, userei, voglio dire, un lessico, una nomenclatura diversa. Ve lo faccio con la voce, questo spartito un po' particolare. Qua io ho da da dum, da da dum, da da dum. Sentite che già solo l'introduzione in questa parte di un doppio doom ci dà già un cambiamento. Quindi sarà, se io lo sostituisco con le parti del corpo, ad esempio con i bambini ciechi, a parte che loro riconoscono il suono subito, però facevo mano, mano, petto, mano, mano, pancia, mano, mano, coscia, coscia, mano, mano, piede. Quindi posso lavorare anche con la voce, posso lavorare con l'inglese, posso lavorare con il marocchino, dopo una questione maridimetrica, con quello che voglio, ok? E poi vado ad unire, mani e corpo. Vi faccio vedere solo un po' di pancia, poi insomma il resto è da da dum, petto, da da dum, pancia, da da dum, dum, cosce, da da dum, piede. Se volete da seduti e proviamo insieme. Uno, due, tre, quattro. Da da dum, petto, da da dum, pancia, da da dum, dum, cosce, da da dum, piede. E questo lo faccio. È un qualcosa che dà subito soddisfazione perché entra subito un orecchio, il corpo si muove, si genera subito un'orchestra. Qualcuno arriverà un po' prima, qualcuno arriverà un po' dopo. Fatelo tre, quattro, cinque volte, ok? Quindi questo diventa il da da dum. Una volta che ho finito, vedo che il gruppo è stabile, posso togliere la voce. Voi non mi sentirete ma se lo fate su di voi lo potete sentire. Quindi lo facciamo insieme dove voi provate a fare solo il corpo, io vi guido solo con la voce, se volete. Queste slide poi le avrete, questo materiale lo avrete, non preoccupatevi. Uno, due, tre, quattro. Da da dum, petto, mani, mani, pancia, mani, mani, coscia, coscia, mani, mani, piede. Posso accompagnare così. In realtà, in presenza, è tutto più semplice. È online che devo descrivere tutto quanto, ok? Vado avanti velocemente perché voglio farvi vedere un piccolo video. Da da dum, che nasce per me appunto come ritmo, come esperienza, come giochino, dopo su questo da da dum, durante il corso ne parleremo ma faremo anche tante altre cose. Durante il lockdown, poi lo posso scrivere così, se voglio. Io vi ricordo però che non uso scritto niente, non do fotocopie, non do nulla. Queste sono scelte vostre. Molto spesso queste scelte sono fatte da una paura dell'adulto che il bambino non ce la possa fare. Il bambino nel momento in cui mi guarda, mi vede e copia e io ho la pazienza di stare con lui e farglielo fare, lo impara. A volte noi adulti abbiamo il senso performativo di fare tutto entro un certo tempo. Il bello di lavorare col corpo è che proviamo a dilatare un po' questi tempi. Per me anche questo è un'idea di inclusione. Volendo lo posso scrivere, ok? O posso creare degli oggetti, posso fare quello che voglio. Quello che vi dicevo, durante il lockdown per me Dada Doom è diventato un albo, ok? Dove alcun interno, durante il corso vedremo magari anche parte dell'interno, c'è proprio il Dada Doom scritto, quindi diventa un albo interattivo dove i bambini suonano e poi ascoltano o seguono una storia. Una storia di un bambino che in qualche maniera del suo modo di essere particolare è stato giudicato, è stato un po' escluso e in qualche maniera poi ha trovato o hanno trovato un modo di stare insieme. Meravigliosa imperfezione è il nostro tratto indistinguibile, unico e speciale. Poi con calma vi guarderete le slide. Questi albo lo trovate insomma anche in Amazon. Ma io ci tengo a farvi vedere adesso un piccolo video che ho fatto. Ah, nel frattempo siamo arrivati qua già a cento. E vi saluto con questa cosa qui. Allora. Dimmi Francesca se si sente. Si sente? Ecco, questo è un video che ho girato, non è col Dada Doom ma è con altre sillabe. Ascoltate. Ok, non pretendo che lo facciamo subito. Era solo per farvi vedere, aspettate che tolgo perché siamo in chiusura, la didattica progressiva che ho utilizzato. Ho iniziato con una parte lenta usando la fonetica ti, ta, to, te, poi dall'altra parte, poi ho aumentato un po' sempre in maniera simmetrica fino a aumentare il... Grazie a lei, grazie a te, abbiamoci pure del tuo. Grazie Silvana. Andando in giù, poi sono andato anche in su. Quindi questo, voglio dire, è già un video con degli obiettivi abbastanza importanti o meglio, se ho bambini di quarta e quinta o prima media avrò un tempo accorciato con i piccoli, ho dei tempi diversi. Vedo che mi state salutando, ovviamente sono le sette e so che è l'ora della papa o dell'aperitivo. Spero in qualche maniera di avervi incuriosito o appassionato, spero di non avervi annoiato troppo perché so che ho parlato tanto, vi chiedo scusa, e sarò felice di trovarvi al corso. Ripeto, video come questi qua che vi ho mostrato, io ve ne darò diversi che resteranno a voi e quindi potrete anche fermarli, lavoreremo durante il corso ma poi li avrete anche voi. Oggi è stata un'infarinatura e insomma generica. Se non avete fretta, avete voglia, avete bisogno, sono a disposizione per delle domande, se no vi faccio l'aperitivo anch'io, insomma da qualche parte lo troverò. Non so Francesca c'è qualcosa? Allora non ci sono state domande dirette, quindi tutto chiaro, anzi ringraziano degli spunti, fanno i complimenti a quanti sono qua e vedo dai commenti che mi sembra di capire che c'è 36% vedendo questionario scuola dell'infanzia, 38% primarie, c'è anche qualcuno della secondaria e anche da altro, quindi magari anche portano magari... Ma è l'altro, è incuriosa sempre tanti e andrei da ognuno a dire ma qual è il tuo altro? Ha un canale Instagram? Sì, mi trovate sui social, trovate tante cose che faccio, che io faccio, ripeto, lavoro in tanti ambiti, non faccio, ecco una cosa, non condivido nei social questi video, perché uno per rispetto per quelli che si iscrivono ad un corso, mi sembra corretto, voglio dire, avere rispetto di queste persone, due perché mi piace spiegare l'idea, la filosofia, la pedagogia, l'idea ampia, vedere solo che una persona lo ripete non è una cosa che fa parte di me, quindi cercatemi volentieri su Facebook, dovrò vedere tante cose, anche su Scuola Oltre, insomma, sono felice di incontrarvi. E allora, io ricordo un po' le informazioni, il corso che ho pubblicato nella chat e che trovate sul nostro sito, nella sezione ovviamente eventi o corsi webinar, trovate proprio il corso presentato oggi, quindi body, percussion ed intorni, ritmo, corpo, voce, emozioni, RCWE con Davide Stecca. Un'ultima cosa, agli insegnanti della scuola dell'infanzia o del nido non è troppo difficile, cioè anche a due anni si fa, a tre anni, voi non avete idea di cosa si può fare a tre anni con i tempi giusti, quindi non abbiate paura, insomma, io cerco di usare sempre dei linguaggi molto trasversali, ma sarà il corso anche l'occasione di soffermarsi con calma e ascoltarsi. Direi proprio che spezzare più volte la giornata scolastica. Sì, ho fatto, non ho parlato, ma ne parlerò, proprio una ricercazione con una psicologa, abbiamo fatto dei percorsi dove fare prima, durante e dopo una verifica, lavorare qualche 30 secondi e vedere come i bambini che di solito erano molto tesi in realtà poi hanno avuto una resa incredibile perché abbiamo trovato il modo di rilassarli. E bisogna un po' crederci, come in tutte le cose, ma come dico sempre, non è una verità assoluta e non è la soluzione a tutti i mali, è il mio modo, è il mio mondo e insomma sarò felice di condividerlo con voi. Ci proverà sicuramente con i cuccioli del nido. Vieni al corso, vieni con me, Franca, che parliamo dei tuoi cucciolotti, è bello, è bello, è bello. Allora, ricordiamo gli altri due appuntamenti, altre quattro ore, divise in due incontri da due ore, sempre di giovedì, quindi ci troviamo giovedì prossimo, 25 gennaio, dalle 5 alle 7. Da vicepresidente posso dire una cosa, che tutti i nostri corsi, anche questi un po' particolari, che se magari vi piacciono e li volete in presenza, noi di Scuola Oltre facciamo anche delle progettazioni su misura per le scuole e veniamo in presenza, si studia insieme, si fa magari una giornata intensiva, quindi se vi piace potete anche, considerate Scuola Oltre e Francesca proprio in una maniera di dialogo, di dire guarda ho questa idea, ci date una mano a creare, noi siamo qui, l'idea dell'associazione è quella del dialogo. Sì, soprattutto per questi corsi, prego, in cui la parte, diciamo, corporale, emotiva, insomma, ha una, corporea, scusatemi, ma è carico per me. La stanchezza è per tutti, certo. Esatto, sì, è una parte importante, quindi sicuramente in presenza avrebbero un'altra resa anche per voi. Quindi, 25 gennaio, body percussion, canto e lavori di gruppo, il giovedì dopo, giovedì primo febbraio, body percussion, movimento e giochi. Quindi, ricordo che trovate il corso, ovviamente, su Portare Sofia e per fare l'iscrizione andate sul nostro sito ed effettuate un ordine. Tre modalità di pagamento, bonifico, paypal, carta del docente, quello che preferite e ne approfitto anche per ricordarvi che se volete, ovviamente, iscrivervi a questo corso, approfittatene anche per diventare soci dell'associazione. Intanto entrerete a far parte di una grande famiglia, ma acquistando anche un corso, come vorrete fare, avrete in omaggio tante altre cose. Quindi, dato che ci siamo e siamo all'inizio dell'anno solare e dell'anno sociale, vi aspettiamo. Sono 10 euro anche la quota sociale in un'ottica anche proprio di andare incontro. Siamo inclusivi anche nei costi noi. Grazie a Sabrina, che non conosco, credo personalmente, se faccio brutta figura, che ha provato a fare, ha trovato, insomma, attenzione. Grazie, grazie di cuore, vi auguro una serata meravigliosa. Grazie di avermi ascoltato, grazie a Francesca del tuo supporto meraviglioso sempre. Grazie a te e saluto anche chi, ovviamente, ci ha seguito da Facebook e ringraziano per la chiarezza. E quindi vi aspettiamo. Prima volta che mi viene fatto questo. Ah, forse è chiarezza tua, perché io di solito faccio un casino. No, 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 gentilissimo, sempre molto chiaro, questo lo dice Serena, quindi, e anche altri, non li leggo tutti, però. Oh, vedi, ho poca autostima, c'è chi sta entrando a quest'ora, saluto chi sta entrando a quest'ora, ma noi ce ne andiamo. Esatto, grazie mille e a presto, vi aspettiamo. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.